buongiorno brando vieni ecco è andata a svegliare la sorella allora io sto ancora così sono le nove e mezza 9 20 allora sto preparando le vietole tante pietole vietolone vietoline mi voglio sbrigare perché anche le rapi da pulire poi dopo dovremo uscire un po quindi ora mi sbrigò velocemente e poi vi aggiorno stiamo andando stiamo andando eccoci qua ma sei pronta e ma fammi vedere la bimba com'è bella con tutte le cose a seguito c'è ma si può guardare che tutte quelle borsette sono per la bambola eccoci qua siamo arrivati emma andiamo quanto è bello stare qua mamma mia bellissimo manello macello emma che fai ciao se il sole va forte si può guardare la bambina che c'è che c'è che c'è che c'è brava 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 stiamo portando i cagnolini a spasso macchia ciao stupi non mangiare niente mamma non ti fa niente mamma eccoci qua vamos oh non ho cliccato stavamo belli qua fermi monelli vamos che avete mangiato io ho fatto pasta al sugo non dice pensavo che era una macchia della maia invece lo specchio ho fatto ad antonio le orecchiette con le rape e a noi pasta col sugo vero emma era buono non dice sempre no e ora portiamo questi monelli a passeggio che ci sono piano ce la fai mantenerlo dai andiamo su camminate dai cammina cammina piano piano ragazzi ho preso sonno anche i bambini un miracolo oggi mi sono appena svegliato sono tipo le 18 adesso mi sto facendo un caffè poi mi metto a pulire perché il macello e devo anche organizzare le cose per domani cremiule lo zaino io tenne già tutto pronto e niente questo oddio mi sono fatto una bella dormita io di sotto non dormo mai pomeriggio ero proprio stanca ne avevo bisogno allora eccoci qua i bimbi si sono svegliati abbiamo un piccolo problemino e ma vuole che diventi subito giorno è molto triste perché questa cosa non può accadere allora io per farla calmare io ho promesso di farle fare i biscottini vero va bene così fai i biscottini e diventa subito giorno vero mamma dai su non ti voglio vedere così quindi ora facciamo dei biscottini molto semplici adesso trovo una ricetta molto veloce allora Emma ha fatto i biscotti e poi ha avanzato l'impasto che si era scocciata e abbiamo fatto questa meravigliosa crostata Emma ehi calma cosa ne pensi? calma no al bambino notti cosa ne pensi della crostata? un po' brutta brutta ma buona che dici? ma la tagliamo va? tagliamo la crostata buona che faccio mamma con me un po' dura eh vabbè l'impasto è un impasto vegano no quella è la crostata tutta dura mmm tieni Brando buono ti piace? ti piace? devi cadere vuoi dire se ti piace? buono buono passabile allora eccoci qua siamo a letto ciao buonanotte ci vediamo domani con prossimo video Brando domani con Brando ciao butta un bacetto buonanotte Brando butta un bacetto Brando quanto sei bello ma butta un bacetto ciao domani buonanotte 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 no